Volevo dirvi il mio grazie commosso per avermi donato questa bella occasione di pregare insieme il Santo Rosario, una preghiera semplice ma profondissima e voglio dire il mio grazie ad uno ad uno, a ciascuno di voi. Ricomprendo tutti nella mia gratitudine a Don Giovanni, a Don Riccardo, a Don Paolo, a Monsignor Carlo che mi ha accompagnato perché mi avete dato l'occasione di trovare riposo in questa preghiera semplice perché è rivolta ad una mamma. E' bellissimo il breve brano che è stato scelto all'inizio. Descrive la situazione degli apostoli provati dopo la tragedia della croce che impauriti, spaventati per quello che era successo a Gesù, ritornano nella sala e nella casa dove abitavano insieme a Maria e il libro degli Atti degli Apostoli sottolinea questo fatto che in compagnia di Maria riescono a passare quel tempo di fatica e di angoscia che sarà poi dissipata, tolta cioè strappata via dalla risurrezione gloriosa di Gesù. Mi ha molto colpito pensare che questa immagine della Madonna protegge da tanti anni, questa corte protegge da tanti anni le vostre case, la realtà di queste parrocchie, di questa zona, di questo decanato di San Siro. Dopo tanti anni, dopo 70 anni, noi siamo ancora qui riuniti intorno alla nostra mamma perché sentiamo che lì c'è per noi conforto. Abbiamo meditato recitando le Ave Marie i misteri del dolore e noi ce li ricordiamo tutti bene, io credo, l'agonia di Gesù nel Gezzemani, la flagellazione di Gesù, l'incoronazione di spine, la salita al Calvario, la passione finale, la morte, la risurrezione e la deposizione nella tomba di Gesù. Come non pensare a partire da quel che Gesù ha provato e da quello che Maria ha provato, stando sotto la croce, come non pensare ai dolori, alle sofferenze, alle fatiche di varia natura che anzitutto provano ciascuno di noi in maniera diversa, molti anche provati duramente, chi ha perso qualche caro di recente, chi deve sopportare pazientemente una malattia magari grave, chi si trova un po' confuso sul senso della sua vita, del suo vivere, chi fa fatica in famiglia, chi deve affrontare il travaglio di una separazione, chi deve accettare la mancanza di fedeltà del marito o della moglie. Ma possiamo andare avanti a lungo a descrivere tutte queste prove che possono toccare gli uomini e le donne, talora anche i nostri ragazzi piccoli e però a questo si aggiunge la prova sociale, la fatica della famiglia che non ha il lavoro, che deve portare una malattia, che vive in situazioni di casa un pochino e talora troppo, troppo inaccettabile per la decadenza della casa stessa. E poi noi dobbiamo accettare anche i grandi cambiamenti che sono in atto nel nostro tempo. Mai, mai c'è stata nella storia un'epoca in cui i cambiamenti sono stati così violenti, non perché necessariamente legati alla pratica della violenza, ma perché sono stati troppo rapidi, troppo rapidi e hanno comportato e comportano delle modificazioni e degli adattamenti necessari, hanno bisogno di adattamenti molto, molto, come dire, che sconvolgono un po', che sconvolgono un po', come è cambiato rispetto al momento pur terribile, tragico di questa seconda guerra mondiale, come è cambiata la nostra società. E come Don Giovanni mi ha informato in questa vostra realtà, queste prove sociali non sono di poco conto, la situazione delle case, le occupazioni, l'avvenuta tra noi di molti fratelli e di molte sorelle che vengono da mondi molto diversi, che hanno culture diverse, sensibilità diverse, religioni diverse e questo ha dentro un elemento di prova per loro anzitutto. Basta pensare alla tragedia del Mediterraneo, anche questa sera abbiamo avuto ancora notizia di morti, stiamo trasformando questo mare di mezzo in una sorta di cimitero. E poi come non pensare a quanti faticano, non solo ad arrivare alla fine del mese, come non dimenticare che in questo nostro mondo, come adesso in occasione dell'Expo, siamo stati costretti a riflettere, più di 800 milioni di persone non ha il minimo quotidiano per vivere, sono cose terribili e non è vero che non si può vincere la fame, ci sono tutti i mezzi per poterla vincere, non c'è la volontà politica di vincerla. Quindi alle prove personali che ci pesano sul cuore si aggiungono queste grandi prove sociali e voglio anche accennare al fatto che talune di queste prove toccano anche la nostra Santa Madre Chiesa, anche nelle nostre comunità, talora non ci capiamo, fatichiamo, ci impuntiamo su dei particolari, basta un'inezia per non mantenere un rapporto di fraternità, ma facciamo fatica a chiedere scusa, facciamo fatica a concedere il perdono, a riaprire il rapporto con molti, così come fa Dio tutte le mattine con noi, che tutte le mattine riapre, riapre a 360 gradi sui nostri peccati, sulle nostre piccolezze, sulle nostre miserie. Allora noi offriamo questa sera tutto questo, mettiamo tutto questo ai piedi della Madonnina, piccoli e grandi, ai piedi della Madonnina, perché la Madonna è proprio capace, come la mamma di ciascuno di noi personalmente, di abbracciarci e di darci quel conforto, non sentimentale soltanto, ma anche quel conforto che dà energia di vita, che rinnova la voglia di vivere, perché? Perché ci ridà Gesù, la Madonna ci riporta Gesù, e noi la preghiamo ardentemente, come abbiamo fatto stasera, rendendo bella questa corte, questa realtà, la preghiamo con fervore, perché lei ci porta al nostro Redentore, al nostro Salvatore. Ecco, allora pieni di gratitudine, adesso facciamo il canto finale, al termine di questo Santo Rosario, che ci impegniamo a ripetere, magari una decina la sera, anche nelle nostre famiglie, in questo mese di maggio, oltre che in parrocchia, se non possiamo andare in parrocchia per mille ragioni, lo possiamo ripetere in casa, anche solo una decina, sempre raccomandando alla Madonna tutta la famiglia umana, a partire da quelli che ci sono più vicini, dai nostri compagni di scuola, dai nostri compagni di università, i compagni di lavoro e soprattutto, fidiamo la Madonna, quelli che hanno più bisogno, i bambini, quelli che sono senza lavoro, quelli che sono afflitti da tante prove, gli ammalati, gli anziani, quelli che sono nell'ombra della morte, i più poveri, gli immigrati, i più bisognosi, i carcerati, tutti quelli che le famiglie in sofferenza, famiglie ferite, i figli che faticano a trovare un cammino chiaro nella loro vita, noi mettiamo tutto ai piedi della Vergine e diciamo a lei, chiediamo a lei, come abbiamo fatto in questo santo rosario, che ci porti nel suo cuore e ci abbracci con la sua misericordia, riportandoci sotto lo sguardo di Gesù, sotto lo sguardo di Gesù. Amen.